Stiamo lavorando bene, la prima settimana comunque è sempre una di quelle più dure. Riprendere è comunque sempre faticoso, però stiamo lavorando bene. Il gruppo si va sempre più formando e compattando. È normale che comunque ci siano delle dinamiche da andare a limare, ma noi stiamo lavorando bene e abbiamo molta fiducia. Per quanto mi riguarda, Nord e Sud non ho mai fatto differenza. Ho sempre guardato il discorso piazza, il discorso di come potesse rendermi la squadra migliore, un calciatore migliore. E quindi la scelta di Messina è appunto per questo. In altri anni ho avuto qualche abboccamento con Messina, ma non avevo mai avuto quella certezza di avere un progetto importante. Quest'anno invece le cose secondo me sono cambiate, quindi non ho avuto un attimo di esitazione. Come hai detto te, ho avuto la fortuna di ricoprire più ruoli in andate diverse, con mister diversi e per me cambia poco. Cerco sempre di fare quello che mi dice il mister e in base a quello che lui, la sua idea di gioco e quello che va a ricercare, cerco di mettere a disposizione le mie qualità.